Hashtag noi amiamo gli animali. Gatto siberiano, scheda razza. Affettuoso, splendido e imponente, sono solo alcuni degli aggettivi usati per descrivere un membro della nobiltà felina, ossia il gatto siberiano. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme le caratteristiche del gatto siberiano. Gli esemplari di questa razza sono originari del sud della Siberia, probabilmente frutto di accoppiamento tra felini selvatici e gatti domestici della zona. L'allevamento di questa razza ebbe inizio nel 1990 in Germania e solo dopo otto anni fu ufficialmente riconosciuta dalla The International Cat Association. Il siberiano è un esemplare di taglia grande con una muscolatura incredibilmente potente e prodigiosa e presenta un'ossatura pesante e molto sviluppata. La testa di questo micio è grande, tonda e incorniciata da una stupenda criniera. La sua pelliccia è di media lunghezza, con una consistenza morbida e vaporosa e il manto presenta varie colorazioni, tra cui rosso, bianco e nero, con sfumature del grigio e del blu e può presentare vari pattern. Il pelo deve essere spazzolato due o tre volte alla settimana, ma in primavera, durante la muta, deve essere spazzolato ogni giorno. Il gatto siberiano ha degli arti ben proporzionati al resto del corpo, con zampe lunghe, potenti e muscolose. Gli esemplari di questa razza sono molto dolci e affettuosi, infatti amano ricevere coccole e feste da parte della propria famiglia. Un animale molto dolce e intelligente, che ama dedicarsi a giochi e esplorazioni, anche perché, essendo predisposto ad accumulare grasso, ha bisogno di consumare molte energie. Avendo un carattere mansueto e tranquillo, il gatto siberiano è un perfetto compagno di giochi per i più piccoli, ed è adatto alla convivenza con altri animali domestici. Gli esemplari di questa razza sono molto longevi e hanno un'aspettativa di vita di circa 20 anni. Nonostante questa razza sia robusta e con un'ottima resistenza al freddo, è anch'essa soggetta ad alcune malattie, generalmente di natura genetica, come ad esempio la cardiomiopatia ipertrofica. Essendo un carnivoro obbligato, l'alimentazione del siberiano si basa su un apporto quotidiano di carne e, meno regolarmente, di pesce. Tra i cibi più indicati ci sono pollo, tacchino, manzo e pesce azzurro. È molto importante fare attenzione alle quantità, in quanto questa specie è a rischio obesità. Per questo video è proprio tutto. Se vuoi saperne di più sul gatto siberiano, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, vuoi maggiori approfondimenti? Scoprili sempre nel link che trovi qui sotto. E voi, conoscete altre curiosità? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!